L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Cubo Eventi. Il Palacona dei Trapani si è trasformato nel regno degli sport minori, spesso troppo poco pubblicizzati. Tennis da tavolo, braccio di ferro, pattinaggio a rotelle, kickboxing, K1, danze sportive, pola dance e scherma hanno animato l'evento che ha raccolto numerosi partecipanti e un pubblico curioso. È stata una festa per i tantissimi giovani che si sono confrontati per la prima volta, si sono potuti esibire nel palazzetto comunale di Trapani. Presenta l'iniziativa anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che si è cimentato in una partita ping-pong. Soddisfatto per la riuscita della manifestazione, Giacomo Mineo dell'Associazione Cubo Eventi, che ha tenuto a ringraziare il comune di Trapani per il patrocinio, la Palacanestro Trapani e Pino Aceto del Soccorso, i volontari della protezione civile magistralmente guidati dal signor Caronia e la Società Mediterraneo Medici Sportivi rappresentata dal dottor Francesco Sieli. Mineo ha poi annunciato che la Cubo Eventi in futuro riproporrà eventi di questo tipo per permettere ai giovani di inserirsi nel mondo dello sport.